Questa è Tony del futuro con il pollice rotto che vi deve spiegare una cosa. Allora, il video è interattivo, quindi sul vostro schermo compariranno delle scritte che vi diranno di fare delle determinate cose e voi se volete godere il video fatelo. Mi raccomando, lasciate like. È da quando mi hanno messo la stecca che volevo farlo, scusate. Ciao. Che ore sono? Vabbè, a questo punto mi alzo. Cos'è che faccio adesso? Vabbè, vabbè, la fricolazione. Ma ok, adesso cos'è che faccio? Ma se un domino con i libri mi rilasserebbe. E anche l'ultimo è andato. Finalmente ci ho messo un bel po'. Ma guarda, bel disegno. Ci ho messo tanto, però ogni tanto l'impegno paga finalmente. Aspetta, no, devo sistemare questo particolare qua. No! E dai, ma che palle! Ma basta! Oggi me ne succedono di ogni. E il domino, e il disegno, e il piede, guarda, di ogni. Ora dovrei fare proprio una passeggiata a uscire. Però mi fa ancora male il piede. Però in effetti stare in casa non è che ha molto senso. Cosa faccio? Uscire? O stare in casa? Vabbè, dai, esco. Ciao, Folin, ciao, eh. Ciao. Ma no, guarda, oggi me ne si uccidono di ogni, di ogni. Vabbè, Folin, io torno a casa che mi fa male la testa. Ciao. Vabbè, dai, sai cosa? Restare a casa non è più così male. Allora, ragazzi, il video è finito. È stato un po' strano perché era un video di prova per vedere se sarei stato in grado di fare una cosa del genere. Se vi è piaciuto ditelo nei commenti perché sinceramente non lo so. Ditemi magari come posso migliorarlo e se magari è un'idea da approfondire. Detto questo, niente. Ciao.